io vengo da una famiglia musicale ho sempre ascoltato tantissima musica mio nonno scriveva canzoni napoletane tutti i fratelli di mia madre che sono sette sono tanti tutti hanno un lavoro tra virgolette normali ma tutti sono appassionati di musica quindi ho ascoltato musica da sempre fin da che ero proprio minuscola anzi mia mamma dice che ho imparato prima a cantare poi a parlare e mia martini faceva sicuramente parte della playlist di casa mia tutti i suoi brani da piccolo uomo minueto quelle più famose quelle con roberto murole denso gragnaniello che appartengono anche un pochino di più alla mia città insomma sono cresciuta ascoltando tanto lei non ho mai voluto cantare le sue canzoni perché l'ho sempre reputate troppo difficili quindi pensa come mi devo sentire io in questo momento mi colpisce nel suo modo di cantare oltre all'estensione vocale incredibile è il modo di interpretare di pesare le parole c'è ogni parola che lei canta viene veramente vissuta da lei ogni parola un peso non butta via mai niente per questo era secondo me tanto amata anche dai grandi autori da bruno lauzi vanno fossati perché era una interprete più che una cantante aveva una voce incredibile questo lo sentiamo tutti ma il modo in cui ti trasmetteva quello che diceva lei viveva allora lo diceva anche un intervista in quella da 15 anni ed era proprio l'inizio dice io a volte mi rendo conto che mi trasformo anche quando canto di faccia delle smorfe sono brutta perché vivo troppo quello che canto poteva sembrare un difetto a lei invece forse quello che l'ha resa veramente una grandissima artista se pensiamo a mia martini pensiamo a una donna malinconica cupa indurita anche tanto dalla vita sicuramente nello stato nell'ultimo periodo della sua vita ma secondo me ha sempre cercato anche di mantenere viva quella di fanciulla che che aveva dentro che è un po quello che cerco di fare anche io sempre penso che sia poi la nostra salvezza anche di ironizzare su alcune cose che le facevano veramente male cioè quando stava veramente tanto chiudeva e non parlava o ci giocava su era il suo modo per sdrammatizzare anche alcune cose sono contenta che nel film venga fuori questa cosa in due momenti in particolare che adesso non sveliamo perché non possiamo però sì su alcune cose terribili che l'hanno veramente distrutta lei ha risposto con con l'ironia ecco la leggerezza di un bimbo disarmante io penso che lei possa essere sicuramente un esempio di donna di professionista di artista una donna che non si è mai piegata compromessi regole che ha sempre seguito quello che era il suo istinto quello che il cuore diceva di fare aveva ben chiare le idee su quello che voleva voleva diventare quello che le piaceva e non le piaceva fare ha detto dei no e ha pagato tanto per questo però secondo me alla fine è stata risarcita in parte di quello che purtroppo ha dovuto subire penso che sia un bel esempio per per tutte le donne insomma una donna che non ha mai attaccato per difendersi ma si è difesa col silenzio lasciando parlare la musica al suo gusto grande eleganza